La sconfitta alle elezioni comunali di Arezzo è solo l'ultima in ordine di tempo per il Partito Democratico Locale, di una serie che inizia a essere un po' troppo lunga, almeno per un territorio che vanta una solida tradizione rossa. Certo, l'elezione diretta del sindaco ha cambiato le regole del gioco e non è più possibile campare solo di rendita, ed è pur vero che dietro ogni vicenda ci sono storie diverse con elementi specifici, ma il trend è abbastanza chiaro. Solo lo scorso anno il PD è riuscito a riconquistare la Valtiberina, dove hanno governato in quasi tutte le municipalità sindaci di centro-destra. Ha perso a Castiglionfiorentino dopo una lunga e travagliata stagione, è stato vittima del ribaltone di Subbiano e della conferma di Bernardini a Bibbiena, una crisi che vede nel Casentino il prossimo terreno di battaglia. I problemi che ci sono stati in Casentino in quest'estate riguardano la gestione dell'Unione dei Comuni, cioè dell'associazione dei Comuni di una parte dei Comuni del Casentino. Rispetto a questo io credo che in questo turno dovrà essere presa delle decisioni importanti relativamente al futuro dell'assetto istituzionale del Casentino, per cui o faremo funzionare l'Unione dei Comuni oppure l'Unione dei Comuni non ha senso che continua ad esistere così come la conosciamo. La crisi casentinese ruota in buona parte attorno all'annosa questione della possibile fusione di alcuni comuni, un argomento sul quale la Direzione Provinciale del Partito Democratico ha approvato un documento l'11 luglio scorso, nel quale si indica la necessità di ridurre il numero dei comuni, lasciando però ai singoli consigli comunali l'ultima parola sulla loro opportunità e modalità. Prendo atto, non solo che il Comune di Capolone e Castiglian-Fibucchi hanno deciso di fondersi e quindi andranno al referendum la fine dell'autunno o la prossima primavera per la fusione del nuovo Comune tra Castiglian-Fibucchi e Capolone. Mentre registro la marcia indietro del Sindaco Bernardini sulla prospettiva di fusione con il Comune di Ortignano-Raggiolo, che invece ha presentato tutte le carte in regola alla Regione, cosa che ancora non solo il Comune di Bibiano non ha fatto, ma ha scritto di voler tornare indietro.